al 10 mi tieni il fronte a mano? si 30 questa è destra 3 meno meno 40 si 10 molalo 5 4 3 2 1 vai destra 3 meno meno 40 accendo sinistro in destra 3 più tieni vai 70 destra 4 più più 30 destra e sinistra 3 più 30 sinistra 3 più chiude 3 meno sporca 100 ai cartelli destra 3 meno 70 40 destra 4 più più 50 sinistra 5 30 sinistra 5 di nuovo 30 vai 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 in sinistra 3 per destra 4 vai 40 sinistra 3 più 30 destra 4 più più 100 sinistri 100 sinistra 6 lunga lunga e in sinistra e in sinistra 3 più e in sinistra 3 più per destra 4 e in sinistra 3 più per destra 4 40 in sinistra 3 più per destra 4 in sinistra 4 e molta attenzione al Rai subito a sinistra 3 meno apre 4 in sinistra 4 in sinistra 3 40 sinistra 2 sinistra 2 destra 3 lunga lunga 80 ai cartelli destra 2 più subivio destra 2 più subivio per sinistra 3 più 40 destra 4 per sinistra 5 su 12 100 al cartello destra 5 più 70 a fine stazionata sinistra 2 30 destra 4 30 destra 4 di nuovo 40 in sinistra 3 ritarda chiude 2 sinistra 3 ritarda chiude 2 30 stai a destra subito su dosso dritto 60 accenno sinistro e destro 40 sinistra 3 più più occhio sporca 40 destra 5 70 sinistra 5 più sinistra 5 più 30 dosso dritto 30 sinistra 5 più credici 70 sinistra e destra 4 più 30 molte attenzione sinistra 3 vai 70 destra 6 in sinistra 4 in sinistra 4 molte attenzione destra 3 meno 70 sinistra 4 lunga in sinistra 3 meno 4 lunga in sinistra 3 meno ottimo come prima si è bloccato il cambio happy tanto Tokyo tutto troppo inc Skal